Benvenuti a questo nuovo ciclo di esplorare i confini. Qual è il significato di questa insistenza, vi chiederete voi? Il significato è quello di mostrare proprio come nel momenti più difficili, bisogna saper fare affidamento sulla propria creatività e spirito d'iniziativa. Questa è stata la nostra scelta, in un momento di crisi come quello dettato dalla pandemia, rilanciare un discorso più ampio e innovativo. Quindi questa nuova serie vi accompagnerà per tutta la primavera e nei mesi finali di questa crisi sanitaria. Bene, si inizierà parlando del Carnevale di Fano, della sua storia secolare, poi si toccheranno temi come le onde gravitazionali, l'origine della vita nel cosmo, la vita e l'arte di un grande musicista John Cage, di Nietzsche e di Wagner, di Domenico Modugno, di Fake News e della salute di Gacciaia Alpini, dell'arte giapponese e del suo influsso sulla pittura europea dell'Ottocento. Vi invito quindi ad ascoltare, a partecipare e se il discorso portato avanti vi piacerà, a collaborare con il Circolo Biantini e sulle sue iniziative. Buon ascolto a tutti e arrivederci a presto. Benvenuti alla nuova puntata di Esplorare i confini, una produzione del Circolo Bianchini. Io sono Rodolfo Battistini e vi parlerò del Giappone e le sue conseguenze che la civiltà giapponese ha avuto sulla pittura europea dell'Ottocento. È un tema ormai dibattuto e molte pubblicazioni, molte mostre sono state attivate proprio su questo tema e ormai possiamo dire di avere raggiunto dei risultati abbastanza sicuri nel delineare questo fenomeno che è stato fondamentale per lo sviluppo della cultura e della civiltà dell'Europa proprio fra Ottocento e Novecento. La riscoperta del Giappone è avvenuta essenzialmente, come tutti sapete, dopo il 1853 quando la flotta americana guidata dall'ammiraglio Payne si è fermata davanti al Tokyo, alla capitale, minacciando di bombardarla se il Giappone non avesse ripreso i rapporti con il mondo esterno che erano stati nel corso della sua storia molto altalenanti. Il Giappone in realtà non è stato mai del tutto chiuso alle influenze esterne ma aveva alternato momenti di apertura ad altri di chiusura netta. Quindi non si è trattata di una riapertura dopo secoli di isolamento e di chiusura ma di un ingresso del Giappone nel mercato internazionale, nel circuito economico internazionale a quel tempo guidato appunto dagli Stati Uniti, dal Regno Unito, dalle grandi potenze europee e nordamericane. Questo evento però come è noto e come tutti sapete ha portato come conseguenza una conquista da parte del Giappone della cultura, del gusto, del senso della bellezza e dell'estetica occidentali. Cioè il Giappone è vero che ha cominciato a importare prodotti occidentali, soprattutto armi, era quello che principalmente gli Stati Uniti volevano vendere ai giapponesi. Ma poi l'Occidente è stato realmente sedotto dal fascino della cultura giapponese e quindi il fenomeno, l'evento storico forse ha più giovato che il nociuto al Giappone e oltretutto ha permesso a questo arcipelago un processo di modernizzazione condotto proprio dalla casa imperiale, guidato dagli imperatori che si sono succeduti al trono soprattutto dopo il 1868, dicevo, ha consentito al Giappone di diventare quello Stato modernissimo che è oggi, conservando però dei tratti fondamentali della propria tradizione, della propria cultura. E Giappone, vi dicevo, che per le epoche che ci riguardano e che velocemente percorreremo in questa puntata, Giappone che pur essendo piccolo in fini conti, l'arcipelago giapponese misura un'estensione poco più grande della nostra penisola italiana, quindi non è un territorio immenso come quello cinese, eppure ha faticato moltissimo a trovare un'unità, anzi forse anche la conformazione stessa, vedete, dell'arcipelago ha favorito una parcellizzazione dei centri di potere, una frammentazione del potere, per cui già da epoche antichissime, dal neolitico giapponese, il Giappone inventa l'agricoltura un po' più tardi rispetto a noi, intorno al 300 a.C., ecco, nel momento in cui si sviluppa la civiltà urbana in Giappone si forma anche un fenomeno molto, molto accentuato che precede l'analogo fenomeno storico europeo, cioè il feudalesimo. Il Giappone ha sin dall'inizio una struttura feudale, il suo territorio viene diviso in tanti feudi guidati appunto da questi nobili, che sono anche molto riottosi nel obbedire e nel seguire le direttive della corte imperiale. La corte imperiale fa molta fatica nel corso della sua storia a controllare tutti questi feudatari e il centro del potere in Giappone si sposta, non è sempre stato dove oggi l'attuale Tokyo, come dicono loro giustamente, nell'Ottocento veniva chiamata Edo e su questo poi torneremo, ma se voi guardate appunto la cartina del Giappone che vi ho presentato, all'inizio i centri di potere che non avevano una ubicazione unica, cioè la corte si spostava, non esisteva una capitale vera e propria, ma nella provincia di Naraa, che corrisponde qua al numero 29, vedete nell'area un pochettino meridionale del Giappone, nell'area di Naraa, quest'area qui, qui la corte sostava, fino a quando nel 794 non viene stabilita una vera e propria capitale, che corrisponde qua vedete al numero 26 della cartina, Chioto, noi in Italia diciamo Chioto, e questa rimane capitale, sede della corte imperiale, fino al 1868, quindi c'è una continuità e il fulcro, quindi della cultura, il centro delle direttive nell'ambito estetico, storico-artistico, per quello che ci riguarda, questo centro diventa Chioto e lo rimane fino appunto al, perlomeno vedrete fino al 600, poi qualcosa accadrà e le cose cambieranno. La frammentazione della società giapponese in tanti feudi guidati da nobili militari, che conducevano anche una vita militare, quindi erano dei guerrieri, noi la troviamo espressa anche nella più antica produzione artistica giapponese, come ad esempio queste terracotte, sono, vedete, piccole statue di terracotta, che venivano parzialmente interrate sopra le sepolture di questi nobili e che ci riportano, ci restituiscono l'immagine di questi aristocratici guerrieri che erano appunto il fulcro della società di allora, quindi già dalle espressioni d'arte più antiche noi abbiamo il quadro della situazione politica giapponese. Uno dei temi fondamentali per comprendere l'arte e tutta la cultura giapponese naturalmente è il rapporto con la Cina, con questo scomodo vicino col quale il Giappone anche oggi appunto ha rapporti molto difficili. Si alternano periodi di grande scambio commerciale e culturale e il Giappone recepisce tantissimi motivi, tantissime idee e tanti aspetti culturali dalla Cina, a partire da quello religioso. Il buddismo si diffonde infatti in Giappone a partire dal 552 d.C., sovrapponendosi, questo è un aspetto fondamentale per capire il mondo giapponese, alla religione autoctona, indigena, giapponese, lo Shinto, sovrapponendosi perché tutto sommato le due correnti religiose trovano, proprio nel rapporto fra uomo e natura, che vedrete sarà fondamentale per comprendere lo spirito giapponese, un luogo d'intesa. Nella natura i giapponesi, sia quando erano totalmente shintoisti e poi anche dopo la diffusione del buddismo, nella natura i giapponesi trovano il divino. La natura è il luogo in cui umano, divino e ogni aspetto poi della vita, quindi gli animali, le piante, si incontrano in una unità inscindibile. Quindi questo senso di comunione tra l'uomo, le sue opere, l'aria, l'acqua, gli animali, i fiori, gli alberi, quindi questa fusione piena fra uomo e natura, è il filo conduttore che elega tutti i vari momenti della civiltà, della storia e della cultura giapponesi. A cominciare, vedete già dalle espressioni architettoniche. Noi purtroppo abbiamo pochi edifici che risalgono a quello che corrisponde il nostro medioevo, l'età moderna, intatti. Il materiale da costruzione era essenzialmente il legno in Giappone, così come in tante parti dell'Asia, e quindi questi edifici sono andati soggetti a incendi, a distruzione, e sono per lo più ricostruiti. Pochissimi, pochissimi sono originali. Fra i pochissimi c'è questa bellissima struttura, chiamata la Sala della Fenice, è la parte di quella che era un tempo una residenza privata, poi diventato un tempio. Molto spesso in Giappone le residenze nobiliari vengono poi trasformate in templi, dove voi vedete le caratteristiche proprie dell'architettura cinese, basterebbe pensare appunto alla città proibita, quindi la tipologia delle coperture, vedete, con quelle falde che si rialzano, l'uso delle colonne rosse, quindi questo gioco di colori tra il grigio, il rosso e il bianco, sono senz'altro tutti stilemi che derivano dalla Cina, ma a differenza, o perlomeno più di quanto non accada in Cina, voi qui vedete una strettissima comunione con la natura. Questa costruzione è su una sorta di isoletta alla quale si accede tramite un ponticello, tutto attorno l'acqua, gli alberi e le strutture portanti dell'edificio che sono le più leggere possibili, proprio per arrivare a questa comunione fra interno ed esterno. Questo è un filo conduttore che troveremo poi in tutta l'architettura giapponese. La diffusione del buddismo porta naturalmente anche alla creazione di statue che rappresentano il Buddha. Un Buddha, vedete, sempre abbastanza tranquillo, vicino, sereno, in modo da comunicare vicinanza tra appunto la sfera divina e i fedeli. E non facciamoci spaventare da queste rappresentazioni di geni, di divinità, Fudomio, era questo, si chiamava così questo genio, che è il guardiano delle leggi buddiste, ma è molto meno minaccioso di quanto la sua espressione possa far credere. È però importante che già, vedete, dagli inizi del XIII secolo l'estetica giapponese persegua degli obiettivi di accentuazione espressiva nei volti dei personaggi che vengono appunto, vedete, rappresentati sia in scultura, poi in pittura. Quindi questa accentuazione dell'espressività del volto è proprio, vedete, una caratteristica che poi ritroveremo. Il fatto che il Giappone fosse appunto così frammentato politicamente al suo interno porta naturalmente anche a gravi conflitti fra regioni, fra feudatari e conflitti interni che, vedete, vengono rappresentati anche nei primi emakii. Gli emakii sono dei rotoli molto lunghi, dipinti, che quindi non venivano appesi alle pareti ma per fruirli bisognava appunto svolgerli. Un po' come i libri, insomma, i rotoli che c'erano nelle biblioteche greche, latine, nell'antichità. Quindi anche fra i primissimi, diciamo, fra le primissime rappresentazioni storiche, raffigurazioni storiche della pittura giapponese questa è bellissima, è conservata a Boston. Ecco, il Museum of Fine Arts di Boston è uno dei musei al mondo più ricchi di testimonianze pittoriche giapponesi, quindi è una tappa fondamentale per chi vuole studiare la radio giapponese. Voi vedete appunto la rappresentazione di conflitti, di guerre. Conflitti, questo è solo un particolare delle emakii, che è lunghissimo, che vengono descritti in tutti i minimi particolari, sia con riguardo agli effetti che naturalmente un conflitto produce sulle città, sugli abitati, gli incendi, le distruzioni, ma anche tutte le situazioni che possono riguardare appunto gli esseri umani. Questa frammentazione, questa divisione politica interna, naturalmente, porta la Cina a pensare che il Giappone sia una facile conquista, un paese diviso può essere conquistato diciamo in maniera facile. E nel 1251 Kublai Khan cerca di invadere il Giappone. Allestisce una flotta potentissima e i giapponesi rischiano veramente di perdere la propria indipendenza perché la disparità di forze è troppo grande, ma una tempesta distrugge la flotta cinese. E quindi abbiamo l'intervento del vento divino, kamikaze, il termine che poi verrà appunto a indicare nella Seconda Guerra Mondiale coloro che si buttavano, gli aviatori che si lanciavano sulle navi americane per distruggerle. Appunto il vento divino, kamikaze, la natura che è intervenuta appunto per difendere il Giappone. Ora, un altro aspetto per comprendere questa cultura straordinaria è anche, da tenere presente, è anche la penetrazione all'interno del mondo giapponese della filosofia zen, quindi del buddismo zen e avviene soprattutto tra la fine del 300 e i primi del 400, quindi tra la fine del 1399, così 1380, 1399 e i primi del 1400. Il pensiero zen influisce moltissimo sulle arti visive, sulle concezioni estetiche di Giapponesi, perché la visione dell'arte, lo zen attribuisce moltissima importanza all'arte, perché l'esperienza artistica può portare alla illuminazione definitiva, quindi l'arte è un veicolo fondamentale per arrivare appunto alla illuminazione. Ma quale arte? ecco, un'arte semplice, un'arte che non sia troppo artefatta, un'arte che non deve perseguire necessariamente la perfezione, anzi abbiamo nella filosofia zen proprio l'elogio della imperfezione, un'arte che rende estetici in senso positivo anche i segni dei tempi. per esempio il segno del tempo, dell'usura che si produce su un oggetto, ecco, non è un fattore negativo ma positivo, è infatti un oggetto che i giapponesi consideravano preziosissimo, questo vassoglio negorò, vedete, che oggi è conservato a New York, al Metropolitan Museum of Art, è un vassoglio in lacca, vedete, ma con tutti i segni della consunzione, con i graffi del tempo che addirittura impreziosiscono l'oggetto, è qualcosa che è strane o in principio è strane o la nostra concezione estetica e invece, vedete, rientra pienamente nel mondo giapponese. la chiusura dei rapporti con la Cina dopo il tentativo di conquista da parte di Kublai Khan fa sì che la cultura e l'arte giapponesi acquistino tratti più peculiari, più indipendenti rispetto, chiaramente, all'influenza cinese e anche l'architettura, vedete, diventa sempre più leggera, sempre più aperta e in comunione con la natura. e qui siamo a Kyoto, appunto, la vecchia capitale e vi faccio solo vedere due edifici fra i pochi che si sono conservati, non dico intatti, sono stati poi ripristinati nel Seicento però, insomma, conservano molto bene l'aspetto originario. Vedete, sono anche queste residenze private che poi sono state trasformate in templi buddhisti ma vedete come siano strutture leggerissime, vedete, questo è in italiano il padiglione d'oro e il padiglione d'argento, vedete, strutture molto leggere, all'interno praticamente non ci sono pareti in muratura, sono pannelli in legno oppure in stoffa e in perfetta comunione con la natura, quindi architettura e natura sono un tutt'uno. e poi proprio proprio uno degli esiti della penetrazione della filosofia zen è la creazione del giardino, vedete, del giardino che in realtà è costituito di sassolini, di rocce che vengono appunto curate e pulite e sistemate tutti i giorni e sarebbe abbastanza vano cercare magari un significato simbolico, metaforico di questi giardini secchi, giardini zen, questo bellissimo che si trova sempre nel complesso che vi ho fatto vedere prima a Kyoto dove c'è appunto il padiglione d'oro e quello d'argento potrebbe rappresentare l'emergere magari di montagne, di cime montagnose sopra la nebbia, sopra una distesa di nebbia, così dicono alcuni studiosi ma non è che sia fondamentale e finalmente inizia vedete si comincia a diffondersi la grande pittura giapponese abbiamo visto prima gli emaki cioè rotoli che si svolgono per metri e metri ma i diciamo i dipinti che potevano essere appesi in qualche modo alle pareti erano di formato verticale come questo quindi vedete delle bellissime tele verticali oppure orizzontali e queste tele possono anche essere attaccate per esempio applicate a dei paraventi quindi possono anche queste opere essere richiudibili mobili non legate necessariamente all'architettura il paesaggio vedete è sempre l'elemento fondamentale una civiltà che mette la natura al centro e il rapporto uomo-natura e divino al centro della propria ricerca artistica non può prestare grandissima attenzione al paesaggio pensate che noi siamo qui alla fine del Quattrocento in Italia la storia del paesaggio non è ancora del tutto iniziata a queste date i primi paesaggi veri e propri li abbiamo in Germania li fa Aldorfer eccetera ma in Italia per arrivare per esempio al paesaggio l'apuito di paesaggio ancora avremo della strada da fare invece in Giappone vedete è già è già un tema consueto ecco oppure scene che comunque come queste piccole aneddoti del tutto naturalistici in cui l'uomo è assente questo è uno dei pannelli più belli vedete che voi potete trovare si trova a New York e vedete appunto delle scimmie queste sono delle scimmie che aggrappate agli alberi che ecco guardate cercano di prendere la luna che si rispecchia in un lago quindi ecco queste queste scene poetiche ma in cui la natura vedete animali la luce la luna gli astri il cielo sono i protagonisti l'uomo è totalmente assente pensate che invece nella nostra pittura nella tradizione italiana i primi paesaggi avevano per forza bisogno dell'uomo che ci fosse una storia magari piccolina magari in un angolo ma la presenza dell'uomo e della sua storia era fondamentale per giustificare il dipinto in Giappone no il 1543 è una data estremamente importante per il Giappone dalle connotazioni sia negative che positive è l'anno in cui gli europei sbarcano in Giappone sono i portoghesi i portoghesi per primi che arrivano in Giappone prima il Giappone ha avuto sempre rapporti con la Corea certo altalenanti con la Cina con l'India anche naturalmente quindi con le grandi civiltà asiatiche ma il 1543 è la data di inizio dei rapporti fra il Giappone e l'Europa e vedete in questo splendido dipinto che si trova a Tokyo proprio l'arrivo l'arrivo dei giapponesi è un dipinto successivo siamo nei primi del 600 ma riporta proprio questo evento la caracca con i portoghesi che arrivano con tutti i loro vestiti il pittore ci tiene moltissimo a delineare vedete a stabilire le differenze anche di abbigliamento fra gli orientali e i giapponesi e gli europei e insieme questa delegazione vedete di notabili portoghesi è però arricchita dalla presenza molto molto evidente e sulla quale il pittore vedete insiste dei gesuiti allora bisogna qui chiarire subito un aspetto gli europei all'inizio sono ben accetti anche i rappresentanti della chiesa cattolica inizialmente sono accolti molto bene quando però i giapponesi si rendono conto dopo pochi decenni dallo sbarco dall'arrivo che la chiesa cattolica dipende da un sovrano straniero che appunto c'è lo stato pontificio c'è il papa c'è il romano pontefice ecco questo fatto provoca una immediata reazione da parte dell'establishment giapponese nei confronti proprio dei cattolici cioè non e i cattolici vengono cacciati vengono quindi la presenza cattolica nell'arcipelago viene soppressa questo fatto sul quale per carità si potrebbe poi io non sono uno storico quindi lascio a loro le ricerche e i commenti sul caso ma a me serve per far capire che d'ora in poi quindi dai primi del seicento in poi gli europei con i quali i giapponi con i quali i giapponesi vorranno più volentieri avere a che fare sono gli olandesi perché l'Olanda era una potenza commerciale molto attiva nell'Oriente protestante e quindi gli olandesi non erano dipendenti da il romano pontifice e quindi da un capo di stato assoluto che era anche capo religioso con gli olandesi calvinisti i giapponesi non avranno nessun problema e quindi il Giappone per molto tempo avrà vedete la prerogativa di essere scusate l'Olanda l'Olanda avrà per molto tempo la prerogativa di avere una sorta di esclusiva nei rapporti commerciali e culturali con il Giappone la conoscenza comunque della cultura europea porta vedete anche a cambiamenti nell'architettura giapponese i giapponesi a questo punto quando costruiscono i loro castelli cominciano a pensare che magari l'utilizzo delle tecniche costruttive europee più solide possa permettere una maggiore durata quindi nel tempo delle loro strutture la situazione interna giapponese con tutti i conflitti fra feudatari poi ha reso vana questa speranza questo è uno dei pochissimi castelli dei primi del seicento che certo restaurati nel tempo ma che mantiene vedete la struttura originaria tutti gli altri sono andati perduti o sono stati poi ricostruiti molto molto tempo dopo ma questo è abbastanza originale vedete come si fondono le tecniche costruttive europee con gli stilemi architettonici giapponesi è il momento in cui vedete il passaggio tra il cinquecento e il seicento è il momento in cui si diffonde anche la cultura delle cerimonie le cerimonie del tè cioè si delineano quei codici di comportamento che saranno poi fondamentali per comprendere il mondo giapponese che tuttora e che tuttora rendono il Giappone un paese unico e quindi questi codici comportamentali aristocratici che nascono e si diffondono nelle dimore aristocratiche e che fanno sì che ogni momento della giornata sia un rito un rito con le sue con le sue leggi con il suo protocollo e il momento della degustazione del tè sapete che è uno dei momenti topici proprio della vita giapponese e c'era nelle dimore nobiliari una sala apposita con vedete una nicchia in cui era messo un dipinto era collocato un dipinto sulle pareti o un bellissimo vaso di porcellana con i fiori comunque era il luogo dove c'era un'opera d'arte dove c'era un'opera d'arte magari con anche rami fioriti che riportavano la natura all'interno della stanza naturalmente naturalmente la pittura vedete ha una straordinaria uno sviluppo una diffusione straordinaria il momento forse più alto della cultura giapponese dell'arte giapponese è proprio questo che voi avete tra la fine del cinquecento e i primi del seicento e questo è un capolavoro assoluto questo cipresso che si trova a Tokyo è un dipinto formato da tanti pannelli che poi messi insieme possono appunto anche costituire un separé ci tengo a farvi notare quando tra poco vedremo splendidi dipinti di Van Gogh questo insistere sullo sviluppo vedete dell'albero con tutte le diramazioni con tutte le deformazioni che il tempo ha prodotto sulla pianta come se la pianta avesse sofferto nel suo vivere nel corso della sua esistenza avesse lottato appunto contro il tempo e contro l'avversità per vivere questo è un aspetto che vedrete conquisterà moltissimo Vincent Van Gogh ma guardate cosa sono capaci di fare i giapponesi all'inizio del seicento ma immagini che di una modernità straordinaria questo dipinto pini che si trova appunto a Tokyo nel Museo Nazionale di Tokyo utilizza per rendere la nebbia l'aria che sembra dalla quale sembrano emergere i pini semplicemente il colore di fondo quindi il pittore ha dipinto i pini gradualmente con una pellicola pittorica sempre meno spessa sempre più tenue in modo quasi da fondere alla fine la forma dell'albero con appunto lo sfondo bianco creando questo effetto straordinario di nebbia e di vuoto ecco siamo nel 1600 il vuoto vedete ha la stessa valenza espressiva del pieno in quest'opera ma noi ci arriveremo molto più avanti sarà Mozart dare alla pausa un valore espressivo nelle sue composizioni e vedremo dovremo arrivare a Klimt per alla secessione viennese per attribuire valenza appunto significante al vuoto nelle opere d'arte ecco i giapponesi già nel 1600 davano al vuoto questa straordinaria importanza e poi anche opere vedete sono di una simpatia e anche di una tenerezza a volte straordinarie questo per esempio Togasodè Togasodè non abbiamo il nome vedete purtroppo non conosciamo il nome dell'autore come negli altri casi quindi Togasodè è solo il tipo di dipinto in giapponese vuol dire ma di chi sono questi abiti cioè questo questo dipinto vuole rappresentare vedete la nostalgia per una persona che non c'è più che se n'è andata ma ha lasciato i suoi vestiti appesi è come guardare in un armadio gli abiti di qualcuno che non c'è più e quindi il nostro animo è pieno di commozione quindi sono momenti straordinariamente ecco anche raffinati ma soprattutto attenti alle piccole cose piccoli momenti anche della vita quotidiana ai quali si dà la stessa importanza dei grandi eventi cioè il mondo giapponese vedete non fa differenza le piccole cose contano come appunto quelle che noi riteniamo grandi anche in questo vedete la cultura europea dell'ottocento sarà debitrice anche per questo aspetto anno 1603 che cosa succede? come vi avevo detto era difficile molto difficile per il potere centrale controllare tutti i feudatari e guardate già dall'anno 1192 era nata in Giappone una figura politica che sarà fondamentale fino al 1868 lo shogun che cos'è lo shogun? chi è lo shogun? lo shogun è sarebbe generalissimo vorrebbe dire lo shogun è un capo è una sorta di alter ego dell'imperatore è colui che detiene il potere effettivo politico nel Giappone che controlla il Giappone addirittura abbiamo dinastie di shogun appunto lo shogunato si diciamo si replica per dinastie e lasciando all'imperatore un ruolo puramente simbolico e lasciandolo tranquillo nella sua corte a Kyoto appunto nella vecchia capitale gli shogun gradualmente spostano il centro del potere effettivo giapponese a Edo Edo sarebbe l'attuale Tokyo appunto e che diventa una città sempre più grande sempre più viva sempre più ricca di traffici di commerci di persone e vi dicevo si riesce finalmente ad avere una certa tranquillità ecco nell'arcipelago e qual è l'espediente che gli shogun utilizzano per controllare i nobili i feudatari obbligarli a partire dal 1603 obbligarli a risiedere tutti almeno sei mesi l'anno appunto ad Edo nella capitale shogunale diciamo attenzione questi nobili non è che possono avere a Edo una sola casa ne hanno tre tre residenze una per se stesso una per la consorte una per il seguito le spese che i nobili giapponesi devono affrontare per mantenere queste residenze a Edo per finanziare i trasferimenti da Edo ai loro feudi che possono essere anche lontanissimi sono infinite la nobiltà si indebita e cresce vedrete una si rafforza una classe borghese costituita di mercanti di banchieri stilisti eccetera personaggi dediti al divertimento quindi teatro sport case di piacere quindi si crea una società che appunto ha un dinamismo e una capacità nel far cicolare il denaro e nel fare affari paragonabile a quelli che saranno gli Stati Uniti nell'Ottocento e quindi inizia il periodo Edo dalla città appunto in questo momento noi abbiamo grandi costruzioni naturalmente questo è il mausoleo appunto di Yaosu Togugawa che è proprio lo shogun che ha obbligato i nobili a fare quello che vi ho detto è proprio lui che ha compiuto questa riforma nel 1603 e quindi viene celebrato nella storia come una sorta di unificatore dell'arcipelago giapponese a Kyoto l'arte la cultura continua ad essere tradizionale guardate questa meraviglia viene costruita proprio nel corso del 600 questa stupenda la cito solo ve la faccio vedere questa villa di Katsura che è una villa imperiale e il suo minimalismo ha veramente fatto scuola ci sono generazioni di architetti europei che si sono educati a questa estetica ma anche direi pittori non ultimo Mondrian e tutto il destille giapponese devono moltissimo a questa estetica vedete un'estetica un'architettura leggerissima in perfetta comunione con la natura come vi dicevo guardate gli interni di questa villa sono molto importanti per farvi capire come erano fruiti i dipinti perché i dipinti potevano essere potevano appunto decorare le pareti mobili ma anche essere porte cioè un dipinto poteva anche essere una porta scorrevole e poteva essere appunto anche un separe ecco la natura vedete è sempre protagonista anche dell'arte che si sviluppa nel periodo Edo quello che va dal 1603 al 1868 appunto cito solo alcuni dipinti fondamentali questo pensate è un dipinto di Ogata Korin che si trova a New York a Metropolitan un campo di iris vedete ed è proprio un dipinto che è derivato da un'esperienza personale del pittore che era stato mandato in esilio da Kyoto stato cacciato e durante il suo peregrinare a un certo punto vede un bellissimo campo pieno di iris e questa vista appunto gli ispira questo dipinto quindi a volte sono anche immagini che fanno riferimento a una vita alla propria vita oppure vedete come in occhio la pittura europea viene recepita soprattutto per quanto riguarda gli effetti prospettici quindi qualcosa i giapponesi recepiscono dall'Europa l'idea dello sfondo prospettico l'idea anche di un accenno di tridimensionalità degli oggetti deriva dall'Europa perché la pittura giapponese se no era piuttosto abbastanza piatta come vi dicevo quest'altro dipinto di Sun Cho vi mostra come venivano appunto nelle case degli aristocratici goduti e fruiti i dipinti vedete appunto dei dipinti appunto in formato verticale che vengono appesi alle pareti o vengono anche guardati stesi sul pavimento quindi c'era una grandissima attenzione grande dibattito per quanto riguarda l'arte nelle classi dirigenti e vedete anche un separè eccolo qua un pannello che può fungere anche da separè o da parete che appunto è un dipinto i dipinti veri e propri sono appunto un patrimonio delle classi aristocratiche e invece vedrete cosa succede nel mondo borghese ecco questa è la pianta di Edo vi dicevo una città che raggiunge un milione di abitanti già a partire dal XVII secolo al centro che sarebbe l'attuale Tokyo al centro c'è il castello dello Shogun un'area che oggi corrisponde al palazzo imperiale e poi come in una mappa catastale avete tutte le proprietà guardate grandi proprietà dei nobili ora adesso capite perché i nobili giapponesi si chiamano Daimyo Daimyo vuol dire grande nome perché sulle mappe appunto delle città dell'epoca c'erano le aree che loro possedevano nelle città con il loro nome il nome della casata scritto in grandi caratteri quindi da questa sorta di particolare catastale diciamo viene proprio il termine che equivale al nostro nobile aristocratico Daimyo grande nome e potete vedere appunto l'estensione della città ecco questo era il castello vedete di Edo dove abitava lo Shogun oggi la medesima area è occupata dal palazzo imperiale palazzo imperiale che conserva quasi nulla del vecchio castello di Edo sono edifici moderni ma insiste sulla stessa area di una città vedete immensa come l'attuale Tokyo ora vi dicevo questo mondo che poi conquista gli europei è un mondo che si diverte a Edo c'è lo Yoshivara che è un quartiere è il quartiere dei divertimenti il quartiere dei piaceri dove avete i teatri dove appunto ci sono le rappresentazioni del Kabuki e gli attori del Kabuki insieme con i lottatori di Sumo diventano famosi come i nostri come i nostri attori e le stampe che riproducono questi personaggi si diffondono e vengono acquistate a migliaia quindi la nobiltà continua a fruire dei dipinti veri e propri la borghesia che cresce intorno ai do invece acquista stampe in genere sono litografie scusate sono xilografie cioè stampe con una matrice di legno appunto che derivano dalla matrice di legno e sono di una qualità strepitosa straordinaria i editori diventeranno i miliardari dell'epoca insomma e ci sarà un commercio enorme quindi una diffusione enorme di queste stampe questa è una appunto di quelle stampe che rappresentano l'interno di un teatro e questi sono i ritratti degli attori più famosi vedete e guardate se le loro espressioni non ricordano quella della statua del guardiano delle leggi di Buddha che abbiamo visto prima attori che interpretavano sia parti maschili che femminili questo era un attore Tomizaburo era un attore famosissimo che interpretava appunto parti femminili come appunto come nell'antica Grecia e in parte anche in Europa fino a un certo punto le donne non potevano calcare le scene quindi le parti femminili erano appunto interpretate da attori uomini ma sono i divi dell'epoca e le loro e le stampe che riproducevano i loro volti erano diffusissime volti ecco è chiaro che Saracù è uno vedete dei più grandi pittori autori di queste immagini gli autori di queste stampe di queste immagini cercavano cercavano di operare una sintesi tra quelli che erano i caratteri idealizzati della bellezza i canoni della bellezza giapponese e i tratti somatici specifici del personaggio quindi li vedete tutti un po' somiglianti perché come nell'antica Grecia c'erano appunto dei canoni di bellezza ideali ma all'interno del canone c'è sempre qualche aspetto specifico del personaggio ecco i lottatori di sumo è molto particolare l'idea di rendere proprio la muscolatura come un po' così con questi digonfiamenti anche questo è piuttosto convenzionale come metodologia e poi ecco le vedute del quartiere di appunto Oshibara era un quartiere chiuso c'erano delle porte e io presento solo alcune immagini di questo pannello vedete che è lunghissimo è un rotolo di sei metri praticamente dove voi vedete l'ingresso nel quartiere di Oshibara di tante persone che entrano in questo quartiere dei divertimenti dei piaceri c'erano vie che si intersecavano case da te negozi e soprattutto era diffusissima ed era qui ammessa la prostituzione c'erano appunto le case dove stavano le cortigiane più o meno di lusso quelle che non potevano rifiutare i clienti vedrete abitavano ecco in ecco le faccio stavano in ambienti con delle grate quindi la presenza di queste grate indica che lì esercitavano le prostitute diciamo più economiche mentre le cortigiane di lusso avevano le porte aperte avevano vivevano in questi ambienti aperti quindi un mondo che non non dormiva mai era la città che viveva di notte quindi animatissima ed è questo mondo vedete che poi è il punto di ispirazione l'oggetto di ispirazione di tanta di tanta arte giapponese di questo momento famosissime erano le le beltà vedete le le giovanissime cortigiane che vivevano in questo ambiente Utamaro è uno Kitagawa Utamaro è uno dei più grandi artisti autori di queste stampe che appunto riproducono le bellezze di Yoshibara è l'interprete del fascino femminile questa è un'immagine allegorica le tre stelle della felicità vedete la figura ammantata rappresenta appunto la felicità la signora con un bambino la salute e la donna anziana la longevità vedete il tutto in questo in questa immagine molto molto sintetica con le tre figure che campeggiano vedete su uno sfondo uniforme ecco questo dipinto rappresenta il mercante di di stoffe Hiei e la cortigiana Koharu che non potendo coronare il loro amore con un matrimonio date le convenzioni dell'epoca si suicidano e questo è il momento vedete in cui loro guardano la lettera che vedete Hiei tiene in mano la lettera in cui spiegano le ragioni del loro gesto quindi insisto su questo l'arte che noi stiamo adesso scorrendo velocemente tratta nello stesso modo con la stessa importanza della vita di tutti i giorni dei piccoli aneddoti quotidiani e ugualmente delle tragedie quindi momenti tragici momenti leggeri sono vissuti all'interno di questo mondo di questo di questo arte con lo stesso piglio è il mondo che viene definito ukyo e cioè questa civiltà che si sviluppa a Edo a partire dai primi del seicento viene chiamata appunto ukyo e cioè immagine del mondo fluttuante cioè sono immagini che colgono appunto dei momenti dei momenti di vita dei paesaggi degli aspetti della natura e li eternano per sempre sottraendoli dalla consunzione del tempo cioè magari può essere una situazione cioè un ecco un uccellino un cardellino su che noi vediamo su un ramo di ciliegio vedete è una 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 visione che noi abbiamo un aspetto che cogliamo momentaneo è però l'arte ha il potere di eternarlo e quindi di sottrarre questo momento questo ricordo che noi abbiamo dall'oblio e dalla consunzione anche momenti come questi qui siamo Katsushika Oksai è uno dei tre grandi protagonisti dell'ukiyo e appunto Utamaro Oksai e Irosige vedremo e quindi anche la questo è un acquarello non è una stampa è proprio un acquarello quindi un'opera a sé stante vedete cogliere il momento di una di un temporale e in quel momento noi siamo qualunque situazione noi si possa vivere in qualunque momento della nostra esistenza si sia non c'è niente che conta di più dell'esigenza di sottrarsi a uno scroscio improvviso cioè in quel momento tutto il mondo tutta l'esistenza tutti gli interessi di questi personaggi sono concentrati sul temporale sulla pioggia che cade ecco quindi un momento che quando accade concentra tutta la nostra attenzione si prende tutta la nostra attenzione non esiste altro al mondo rispetto a questa situazione poi viene dimenticato passa perché è insignificante nel corso della nostra vita ecco l'ukio e l'arte che si sviluppa all'interno di questo fenomeno invece vuole proprio fissare questi momenti che nella nostra memoria poi sarebbero andrebbero perduti se ci pensate un attimo è proprio quello che vorranno fare gli impressionisti e quindi c'è una una grandissima comunione di intenti tra la pittura giapponese vedete del 600 poi ripresa nell'800 quindi questo movimento dal 600 arriva fino alla metà dell'800 quindi c'è una grandissima comunione di intenti fra questo fra lo spirito dell'ukio e quello delle avanguardie appunto del nostro fine 800 primi 900 Oksai è anche l'autore di queste bellissime vedute del monte Fuji come sono famosissime c'era molto turismo interno in Giappone e questi pittori magari basandosi sulle guide turistiche o su altre opere volevano fissare anche momenti del paesaggio particolarmente significativi del Giappone del Giappone e quindi il monte Fuji con la sua carica diciamo anche mistica che aveva i grandi fenomeni della natura qui è famosissima l'onda di Oksai con questa gigantesca onda che sembra possa sommergere le barche dei pescatori l'eterna lotta dell'uomo anzi l'eterna convivenza a volte difficile dell'uomo con la natura vedete momenti drammatici e momenti invece più sereni ecco guardate come Camille Clodel la splendida scultrice compagna di Rodin ha interpretato quest'onda vedete che è un'onda che invece rischia di travolgere una danza di ninfe delle ninfe un po' arcadicizzata diciamo l'onda di Oksai e addirittura Debussy ha voluto per la sovracopertina dello spartito della Mer proprio vedete una riproduzione dell'onda di Oksai quindi guardate come il mondo giapponese l'arte giapponese poi veramente conquista tutti conquista i nostri artisti conquista i musicisti conquista anche le persone normali si sviluppa nell'ultima parte dell'Ottocento un fenomeno chiamato appunto giapponismo perché veramente l'Europa è conquistata dalla bellezza dell'arte giapponese guardate anche come questa bellissima stampa di Oksai che riproduce dei dei gitanti che sulla terrazza del tempio appunto Rakan guardano da lontano guardano nel paesaggio e sullo sfondo c'è l'immancabile Fuji vedete questa struttura poi ha guidato Monet in uno dei suoi capolavori più alti il giardino a Santa Dress vedete del 67 che sta al Metropolitan dove non solo Monet riprende questa comunione fra uomo natura che è propria della pittura giapponese ma va oltre qui siamo in Occidente siamo nell'Europa delle varie fasi della industrializzazione ottocentesca e allora in questo mondo vedete trovano una perfetta armonia oltre agli uomini alle bandiere ai fiori ai dettagli dell'arredo di questa terrazza che si affaccia di questo giardino che si affaccia sulla manica vicino a Le Havre anche i prodotti della industrializzazione della tecnologia industriale le navi alla fonda vedete in attesa di entrare nel porto di Le Havre con i comignoli fumanti che noi oggi farebbero pensare all'inquinamento e quindi sarebbero una nota un po' stonata in questo in questo ambiente e che invece nell'Europa positivista entusiasta dell'industrializzazione della modernità anche il portato appunto delle tecnologie che sono alla base dell'industria hanno una valenza estetica positiva quindi le navi alla fonda coloro comignoli che in realtà inquinano il cielo sono un fattore estetico positivo quindi Monet fonde il Giappone con quello che è poi il pensiero della visione europea l'ultimo protagonista dell'Ukiyo-e che io vi faccio vedere è appunto Utagawa Irossige anche lui sulla scorta dei predecessori si dedica alle vedute di Yoshibara di questo quartiere di questa città nella città che appunto viene descritta con vivacità facendoci proprio percepire l'animazione delle sue vie ma come anche fece il suo più diretto predecessore Oksai si dedica all'illustrazione dei luoghi famosi molto noti presso i giapponesi paesaggi e località particolarmente belli che si trovavano lungo le rotte di comunicazione tra quella che ormai è la nuova capitale Edo eccola e la vecchia Kyoto vedete c'erano soprattutto due strade due strade che avevano poi tante stazioni di posta e attraversavano anche tanti paesaggi e quindi è proprio alla rappresentazione di questi di queste località che si dedica appunto principalmente il nostro artista le due strade erano Tokaido quella più breve quella che appunto era più vicina all'oceano Kiso Kaido era la strada interna ora vedete ancora una volta i Rossi si concentra su questi fatti su questi momenti particolari o addirittura in questa sua splendida poetica nella quale paesaggio e umanità si fondono guardate come riesce quasi a non farci percepire seguite bene ecco la mia indicazione guardate questo corteo è lo shogun che si sposta con tutto il suo corteo in mezzo appunto alle colline vicino al lago vedete e voi quasi o anche un particolare voi quasi non avvertite la differenza forse percepite i copricapi ecco i bagagli ma veramente l'uomo è perfettamente fuso con la natura anche guardate quest'altra immagine sono la serie le 53 appunto a stazione di posta del Tokaido guardate come questi viaggiatori che ammirano lo spendido paesaggio dove c'è anche l'immancabile Fuji sullo sfondo guardate come il loro chinarsi protendersi verso appunto verso la baglia è accompagnato dalla conformazione del paesaggio stesso quindi a sottolineare sempre questa fusione fra uomo e natura e poi questi straordinari momenti della natura del paesaggio giapponesi io ne ho tolte perché altrimenti non finirei più questa è l'illustrazione questa serie appunto si intitola illustrazioni dei luoghi celebi delle 60 e oltre province il ponte della scimmia questi ponti vedete che collegano quasi questi questi strapiombi questi canyon fra loro guardate che meraviglia questa spiaggia con i pini vedete che arrivano fino quasi al mare la spiaggia della danzatrice come questa conformazione appunto così sofferta nel corso del tempo dei pini poi influisce su Van Gogh guardate questo splendido i campi dell'ospedale siamo nel penultimo anno di vita di Van Gogh lui è a Saint-Rémy ricoverato a Saint-Rémy e guardate come attribuisce la stessa dinamica con torta e sofferta ai pini dell'ospedale esattamente come voi avete visto nelle stampe appunto giapponesi vi dicevo i gorghi anche i grandi fenomeni della natura paesaggi come questi questi faraioni vedete che sembrano delle spade che appunto suggeriscono spade e vi dicevo soprattutto poi sempre i rossighe eccolo guardate ancora torna su questi momenti questi aneddoti l'improvviso equazione che coglie questi viaggiatori su questo ponte bene guardate cosa fa Van Gogh Van Gogh proprio riprende e reinterpreta a modo suo questa splendida stampa accentuando proprio con l'acromia con la spessore materico della pittura la componente drammatica ed esistenziale appunto di questa situazione Van Gogh era innamorato del Giappone dell'arte giapponese aveva una grande collezione di stampe giapponesi una di queste che rappresenta vedete una famosa cortigiana o Iran lui la riproduce in un suo dipinto questa è la riproduzione di una sua stampa giapponese vedete e la cortigiana inserita all'interno di una cornice naturalistica come se fosse un quadro che vola sospeso in una sorta di stagno vedete con le canne le ninfei gli aironi eccetera è la stessa vedete cortigiana che voi trovate anche sullo sfondo di questo ritratto di Pierre Tanguy era il mercante che riforniva di colori Van Gogh e tutti gli impressionisti tutti i pittori operosi a Parigi alla fine dell'Ottocento lui non aveva in realtà una collezione non era particolarmente amante dell'arte giapponese Van Gogh presta a Tanguy le sue stampe come sfondo per creare quest'ambiente la stessa cosa che fa vedete lo stesso prestito che fa Agostina Segatori una ex prostituta che era riuscita a non morire di tisi o di altro e con i soldi guadagnati aveva allestito un caffè il caffè Le Tambouren vedete dalla forma dei tavolinetti la forma di tamburello e vedete per arredare questo caffè che rappresenta il riscatto per Agostina che è arrivata insomma dal suo volto vedete dalla sua espressione si vede il prezzo che ha dovuto pagare per l'indipendenza per essere una donna libera e lui presta ad Agostina vedete le sue stampe che compaiono sullo sfondo Van Gogh pensava di aver trovato il Giappone in Provenza scriveva al fratello e agli amici come Gauguin venite in Provenza qui c'è il Giappone non c'è bisogno di andare nell'estremo oriente e quindi come i giapponesi era affascinato dallo spettacolo degli alberi in fiori a primavera e sono dipinti che lui appunto esegue proprio alla maniera del Giappone guardate questo stupendo questo particolare del mandorlo fiorito se non potrebbe sembrare a prima vista proprio un quadro giapponese quindi Van Gogh ha avuto un ruolo di primo piano nella diffusione del giapponismo in Europa ma non solo lui guardate questa stampa sempre di Hiroshige che appunto rappresenta alcuni luoghi famosi di Edo della capitale con questo ponte particolare ma voi lo ritrovate anche in Whistler Whistler interpreta Londra quasi in chiave giapponese attribuendo a un ponte londinese vedete una forma che richiama quella dei ponti giapponesi è uno spirito molto diverso da quello di Van Gogh qui siamo in un simbolismo diverso che evoca mistero un simbolismo più virato verso una concezione estetizzante anche dell'esistenza ma ugualmente debitore dell'influsso del Giappone così come anche ancora questi particolarissimi ponti Monet Monet si fa costruire a Giverny a 50 km da Parigi un giardino intorno alla casa che lui compre dove passerà poi il resto della sua vita fino alla morte nella metà degli anni 20 si fa costruire un giardino con delle strutture giapponesi quindi Monet vivrà in una sorta di piccolo Giappone trapiantato in Francia ricreando ambienti atmosfere giapponesi ma guardate come anche stampe come queste sempre di vedete è sempre il Rossige è una stampa ispirata a un giardino bellissimo giardino di Susini molto famoso a quel tempo oggi non c'è più c'è tutte le case e guardate come interpreta ancora una volta questa fatica di vivere di questo Susino e come questo particolare questi rami che tagliano proprio la composizione saranno poi ripresi da Van Gogh nel seminatore al tramonto ma anche dal suo amico Gauguin nella splendida visione dopo il sermone questo tronco d'albero che proprio taglia diagonalmente la composizione indicando che non si ricerca nessuna profondità prospettica e che la pittura non deve più essere mimetica della realtà e recuperando vedete una sorta di assenza di spazio che rende la pittura sempre più spirituale sempre più rivolta a valori altri anche Gauguin riprende ma guardate questi i manga erano appunto dei libri con tante stampe dove c'erano anche dei suggerimenti per la danza eccetera e questi sono vari passi di danza sempre da questo è Oksai un po' sgraziati naturalmente un po' scherzosi beh le stesse posizioni che riprende poi Degas nella ballerina del Metropolitan di New York vedete sempre questi manga con dal titolo un gruppo senza formalità quindi movimenti un po' danze molto liberi con movimenti liberi beh saranno ripresi da Toulouse-Lautré vedete per i manifesti per le protagoniste del Moulin Rouge dei luoghi di spettacolo della Parigi della Belle Epoque ecco fino ad arrivare vedete a Chahou a Serrat che riprenderà proprio delle idee da questi repertori l'amore per il Giappone per la sua arte per la sua cultura può avere anche delle declinazioni ironiche scherzose come in questo ritratto di Camille Monet che è la la moglie di Claude Monet vestita appunto alla giapponese è un sintomo diciamo scherzoso ironico della mania che aveva contagiato la società francese non solo ma tutta la società europea e nord americana appunto questo contagio per l'amore nei confronti della civiltà giapponese quindi vedete Camille con un kimono e con tutti questi ventagli intorno a lei ventagli vedete un tipico ventaglio giapponese e poi ritorna sempre in Whistler in questa immagine venata di malinconia un'immagine post romantica calata in una connotazione in un'atmosfera pienamente simbolista quindi vedete come il giapponismo assuma diverse connotazioni a seconda proprio dell'indole della cultura della personalità degli artisti è molto più teatrale questo travestimento sempre di Whistler di questa principessa della porcellana rispetto a quello scherzoso ironico di Monet anche questo modo di farsi rappresentare evidentemente da signore dell'alta borghesia parigine come appunto delle aristocratiche giapponesi mentre contemplano le stampe mentre contemplano opere giapponesi in un ambiente vedete anche arredato alla giapponese con quei famosi separè che vi dicevo di quei pannelli che possono appunto fungere anche da pareti quindi ci si fa ritrarre alla giapponese questo è un aspetto molto diverso ma dalla ritrattistica alla giapponese di Van Gogh lì noi abbiamo la condivisione in Van Gogh di una poetica di una visione del mondo c'è proprio una comunione strettissima Van Gogh ha trovato quasi il mondo ideale in cui vivere nella società giapponese nel mondo giapponese nella cultura e nell'arte giapponese invece qui noi abbiamo con Whistler più una concessione magari alla moda più un travestimento di carattere estetizzante ecco un orientalismo che rientra in un in un altro fenomeno che corrisponde a un altro fenomeno non così non così profondo non c'è un'adesione così profonda al al modo di pensare al modo di vivere giapponese come invece voi avete visto per esempio in Van Gogh qui ecco è più un fatto di moda ecco siamo più all'interno di un fenomeno che riguarda la moda e chiudo questa appunto questa lunghissima conversazione rimandandovi alla prossima iniziativa di esplorare i confini e ringraziandovi della vostra pazienza proprio con questo bellissimo certamente molto in qualche modo sfuggente nel suo significato e molto evocativo di atmosfere rarefatte questo bellissimo ritratto di Mrs. Leyland che appunto in omaggio alla diffusione alla fortuna della cultura giapponese si fa rappresentare si fa ritrarre sullo sfondo di una parete della sua casa decorata proprio con questi alberi con questi rami fioriti al gusto secondo il gusto giapponese grazie 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 a tutti.